Siamo a Staffal, nella valle di Gressonei. Abbiamo deciso di salire direttamente al gabier 2003 qualcosa invece che prendere la telecabina. Poi da lì decideremo che cosa fare. Prendere la seggiovia che va sui salati o prendere la bici. Saliamo adesso dolcemente dopo una prima rampa. Siamo quasi a 2.000. Con il walk fino a là, è incredibile. Sono saliti con il walk a questa rampa. E' il cavolo, a una faccia. Ecco la filiglia già via il passo dei salati. Siamo sulla cabinovia che va il passo dei salati. Ecco la filiglia di Alagna che sta salendo, messa arrivati da Gressonei. Dove è la strada? Eh? La strada è giusta di questa. Di qua? Di qua? E' un po' che forse c'è la stina. Ciao Oh, cazzo No, dai Ma che bello qua Eh sì, questo sentiero qua C'è un altro sentiero? C'è un sentiero a sinistra? C'è un sentiero a sinistra C'è un sentiero a sinistra Sì, da un sentiero a sinistra Tu hai quattro tornanti, io due Quattro tornanti Quattro tornanti Quattro tornanti Quattro tornanti Quattro tornanti Dio Quattro tornanti Quattro tornanti Quattro tornanti Quattro tornanti Quattro tornanti La prima volta Seguite I hate it with a bike Hehehe I feel it Wow, what a good day look Che roba Le duvole è un'altra cosa eh Eccoci a Colle Bettaforca 2731 Siamo a 2007 Andiamo a scendere a 1800 Siamo a scendere a 2i L'esperto Siamo a scendere a 4i Siamo a scendere a un nuovo Quello la è salato Ancora di qua Ancora dietro Il salato Il salato